Mandiamo il video però, mandiamo il video. Guarda, guarda, la piange un po' con la... Grazie. E anche questa è fatta. Ma noi continuiamo perché siamo alla seconda semifinale. Gladiatore Nico Scattino, vai! Bene, signor Claudio, il momento è suspantico, cioè carico di suspense. La seconda semifinale, vede sul palcoscenico... Oscar, Oscar che la striscia non si ferma mai, cercano nuovi bazzellettieri, è il mio momento, tu che sei il re, dammi un consiglio, ne tengo uno sui pullman. Sui pullman, ah, guardate che sta qua. Sì. Se Alice è buono che vince, eh. Non vuoi discutere? No, 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 allora c'è una signora che sta a coppare il pullman, c'è una carretta di figli, 6 e 8 figli, allora fanno un pullman già affolato. Pasquale, mettete l'occhio, Nicolì, mettete la signora, Cicci, mettete là cà, signor mantenetemi a queste braccia, il piazzo qua sta tutto quanto, all'ultima tutto sta in bicchiarello, cioè, e se vuoi bicchiarello a stringere poche cose, ti metto pure tu, rispondo via che signora, se quando ero il momento che le cose chiunivevo pure, ci assettavamo tutto il pullman. Buono, c'è grande, alla fermata del pullman, alla fermata del pullman, dice di già, sale un signore, scusate un attimo, pronto, no, 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 aspettatemi, sto venendo, no, ci tengo a venire, sì, sì, subito vengo, aspettatemi a me. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Un giovane, un uomo, un uomo che soffre, un uomo maturo che soffre, perché lui tiene altri problemi, dove se pericato ci tiene problemi proprio sessuali, a noi ci non fa amore che saranno a 15-20 anni. Anni? Anni, no, fa proprio lavoro, viene a domenica, la moglie si straccia in faccia, ci ha detto a domenica, tu ti devi comprare quello libro che ti imparra tutte le cose, si chiama il kamasutra. Ah sì, funziona? Funziona, ci sta una posizione che proprio il femmine tu e fai ghiagnare. E quale? E fai ghiagnare a uire, capito? Qual è? Si chiama la posizione della cipolla. Cioè? Tu ti spugli, e la moglie ti si mette a cagliare. E che sei da accanto kamasutra per stufare? Che è lo stesso, è lo stesso. Andiamo all'intervento, andiamo, quale vuoi mandare, quale vuoi mandare? Occi su la femmine. Eh, bella. C'è ricerca, bella. C'è ricerca. Occi su la femmine. C'è ricerca. piacere scegliere cagnia si ha diventato casa novena e pieto per la sola per la sienta promessa e sposa monapo c'è una scusa con un'ambria che ti va se trova sempre a tapparà suba femmina attenta a te che la femmina è senza cor se tu sei in un catenacore vire non ti fa un catenà tu che ne hai fatta tanto la seppi in quantità potrò una faccia santa che tutto male ti fa papà una faccia santa non ci stiva entrirci pur essere in darezzi stagiappa tu non saranno tante e tanta tussa che sto cuore carcerato da fa stà ma su offresti geloso non riesci più da casa sta male spinerosa ha saputo a rapo chi ha suba femmina attenta a te che la femmina è senza cor se tu sei in un catenacore vire non ti fa un catenà tu che ne hai fatta tanto la seppi in quantità potrò una faccia santa che tutto male ti fa papà fru nella mare sta fio della camo fai amore a mi se si in un catenacore vire non ti fa un catenacore